amici di youtube ben trovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabi ambrosi punto it quest'oggi vedremo come animare le forme geometriche in adobe after effect tre minuti per parlarne quindi iniziamo subitissimo cosa vuol dire animare una forma geometrica in after effect vuol dire fare qualcosa simile a questo trasformare un rettangolo in una stella e poi volendo modificare i vari punti del della forma geometrica e animare come noi vogliamo a nostro piacimento ovviamente questo è solo un esempio il discorso dell'animazione delle forme geometriche in after effect meriterebbe probabilmente un corso a parte tanto è complesso e tante sono le opzioni che avete a vostra disposizione ma in questo mini tutorial di tre minuti vedremo come realizzare l'effetto appunto simile a quello che avete visto in questa anteprima bene ricominciamo da capo e creiamo iniziamo col creare un rettangolo eccolo qui lo posizioniamo al centro del nostro fotogramma bene potremmo di poter trasformare questo rettangolo in una stella come fare dobbiamo poter chiaramente animare i punti che compongono questo rettangolo se voi andate ad analizzare il livello forma appena creato noterete che tra le varie opzioni tra i vari parametri troverete la voce tracciato rettangolo 1 ma se lo aprite trovate dei parametri che in realtà non ci sono molto di aiuto trovate la scala trovate la posizione trovate la rotondità e non sono parametri con cui è possibile giocare per esempio per trasformare questo rettangolo in una stella come fare allora bene intanto creiamo una stella creiamo la per avere un riferimento quindi andiamo nello strumento stella e facciamo doppio clic e abbiamo creato così un nuovo una nuova forma geometrica appunto stella espandiamo anche qui le proprietà della stella espandiamo le proprietà tracciato poligono stella e anche qui trovate delle opzioni che sono diverse rispetto a quelle del rettangolo di prima ma che comunque ancora non ci aiutano il segreto per trasformare quel rettangolo in una stella è trasformare il tracciato della stella in un tracciato bezier e fare la stessa cosa con il rettangolo di prima e poi utilizzare i fotogrammi chiave per creare la transizione come fare bene selezioniamo il tracciato poligono stella tasto destro del mouse e clicchiamo su converti in tracciato bezier ora la stella è stata trasformata in un tracciato bezier posso serenamente a cliccare sul tracciato appena creato appena trasformato con questo tracciato selezionato andare sulla voce modifica copia e in questo modo il tracciato è stato copiato nella memoria del nostro computer per il momento la stella non ci serve più possiamo tornare serenamente al nostro rettangolo creato poc'anzi lo riaccendiamo anche qui dobbiamo fare la stessa cosa trasformare il tracciato convertendolo in un tracciato bezier anche qui adesso vedrete che c'è il tracciato del nostro rettangolo e adesso utilizzeremo i keyframe per creare una trasformazione del rettangolo a stella inseriamo il primo keyframe andiamo un pochettino avanti nel tempo e a questo punto selezionando il tracciato del rettangolo andiamo ad incollare il tracciato della stella incolla ed ecco che all'improvviso il rettangolo si è trasformato in una stella vediamo come avviene la transizione si potrebbe parlare ancora molto delle animazioni delle forme geometriche in after effect ma questo è solo un mini tutorial e dobbiamo fermarci qui grazie per aver seguito anche oggi questo mini tutorial firmato fabbiambrosi.it tutorial chiocciola fabbiambrosi.it è l'indirizzo dove scrivere per richiedere i video tutorial su misura per voi iscrivetevi anche a questo canale youtube e mi raccomando accendete le notifiche al prossimo video ciao